Il giorno dopo anche per lei, primo cittadino di Scanzano. Diciamo che noi purtroppo dobbiamo riacquistare quella tranquillità necessaria per poter riavviare la macchina di governo cittadino. Anche lui, nonostante le contestazioni, oggi ha ripreso la sua quotidianità. La ripresa Franco, l'entusiasta ristoratore. Abbiamo aperto le nostre aziende, i nostri fornitori ci hanno servito, hanno iniziato a vedere girare l'economia nel nostro paese e noi siamo felici. Grazie.